Ciao Marina. Ciao. Ciao ciao mi dici? Sai che stiamo facendo adesso? Sì, è proprio fatto. Miami. Oggi questo è Miami o Miami? Oggi è Miami. Guarda quanto è bello. Vediamo un po' i musicisti dove stanno. Guardate quanta gente. Guardate questo è Nicola. Andi dov'è? E poi è passato. Guardate che spalle enormi che ci sono. Guardate questo è passato. Guardate questo è passato, non me ne guardo più. E noi? E noi? No. 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 E noi c'è di che pace c'è di cannon. No, non c'è di cannon, perché è non la notte. No, non. Noi guardate che li vogliamo a Pablo? Bene. No, ma no. No, no. No, no, no. Però dai, va bene. dai un ragazzo la faccio da un'altra ma perchè non inizia? ecco la taba che spara da sola io spero che andiamo stanno mangiando di stare bene o è molto forte ma pure non ho fatto male eccolo Emma ma ne va bene, ma è silenzio mamma mia boh, vabbè, accettiamo ciao ragazzi ciao